buonasera a tutte amiche a tutti amici ben trovati e bentornati nel canale di Aldo Angeli come dire oggi vengono fatte solo e soltanto ipotesi va bene ci sto perché qualcuno magari ha avuto anche da ridire no sul mio vecchio video l'ultimo video diffamazioni calunnie dice no sono ipotesi va bene oggi si chiamano così ipotesi ognuno fa le ipotesi il mostro ce lo siamo perso il mostro è andato insomma ormai si chiacchiera di qualsiasi cosa fuori che della vicenda reale in sé insomma non sapremo mai come andarono veramente le cose durante l'inchiesta dall'ottantaquattro in poi per capirsi perché ormai si fanno ipotesi ognuno facesse l'ipotesi che vuole tutte ipotesi oggi si chiamano così ipotesi dice cioè additare per esempio additare una serie di duplici delitti ad una persona che non è mai stata riconosciuta in qualche modo implicata in questi duplici delitti è un'ipotesi ma a casa mia un tempo questa era una calunnia che stai additando dei reati gravissimi a una persona che fino a prova contraria non esiste mezzo documento che possa in quanto meno certificare anche solo il sospetto che questa persona potesse essere no mi riferisco all'americano ma uguale discorso sarebbe per vigilanti è uguale uguale discorso sarebbe per salvatore vinci è entrato nell'inchiesta vinci cazzo l'hanno processato anche per il suicidio no della della moglie comunque è stato riconosciuto no mi sembra estraneo e poi al momento giusto se n'è andato vedete anche questo discorso l'ipotesi su salvatore vinci da quando se n'è andato ripeto ancora chi di competenza oggi non so se sia ancora vivo o meno sapeva perfettamente dove era vi ripeto percepiva un indennizzo dall'inps quindi chiaramente sapevano dove si trovasse no se dal momento della sua partenza di vinci nel corso degli anni fossero emersi elementi consistenti mai avvaliati prima a suo carico al di là dei i verti che vanno e vengono eccetera lo avrebbero ricontattato dove si trovava avrebbero mandato alle forze dell'ordine dire guardi salvatore deve tornare in italia perché sono immersi a suo carico parrebbe elementi che la riconducono a quella vecchia storia e lui avrebbe detto andiamo no tutto questo mistero lo sanno e sapevano perfettamente dove si trovasse il vinci salvatore una volta misteri anche qui e si continua a fare le ipotesi e fate le ipotesi a voglia non c'è nessun problema non c'è nessun problema e non condurranno mai da nessun da nessuna parte queste ipotesi fatele ognuno ormai tanto si parla per la vicenda mostro si infila dentro cani e porci ora ho visto il video di un'altra persona che non so neanche come si chiami chi era il mostro di Firenze video esoterico no insomma anche lui uno con la barba lasciamo perdere quindi tutto è mostro dove tutto è mostro niente è mostro così come dove tutto è mafia niente è mafia e bisogna distinguere bisogna comunque si fanno le ipotesi addirittura leggendo chiaramente sotto al canale di Antonio Segnini ci sono le persone che ritengono la tesi di Segnini credibile è legittimo Segnini può chiaramente divulgare anche lui dice è un'ipotesi no questa di Lotti assassino unico e ho capito ma c'è scritto un libro capito c'è scritto un libro allitando a Lotti determinate azioni allitando a Lotti di essere l'assassino vi ripeto ora non guardate che Lotti non fosse proprio amato dai suoi parenti quando era in vita se un giorno i nipoti dell'otti per puro caso dovessero ritrovare in maniera indiretta questo affetto per questo zio che non c'è più e volessero andare a chiedere anche spiegazioni a Segnini dire scusi eh ma lei chi l'ha autorizzata a scrivere un libro in questo senso allitando nostro zio come possibile assassino nostro zio è stato condannato per la brutta storia del mostro di Firenze ma per tutte altre questioni nostro zio ha confessato lui di aver sparato gentile dottor Segnini e la corte non gli ha creduto presieduta da Federico Lombardi non lo ha certificato come assassino come invece lei lo certifica nel suo libro mi può spiegare perché in base a quali elementi lei ritiene mio zio un assassino quell'assassino se me lo può spiegare non guardate che questo non avverrà mai probabilmente però a casa mia questa non è un'ipotesi a casa mia questa è una calunnia poi e già vi dico che non si arriverà chiaramente con le ipotesi questo tipo di ipotesi a nulla leggo sotto il canale vi dicevo di Antonio Segnini giustamente chi ritiene probabile possibile Lotti l'assassino seriale unico che fa c fantastica sopra io ho letto commenti del tipo ma non potrebbe essere stato Lotti ad aver indirizzato le indagini su Pacciani oppure altri commenti del tipo e se fosse stato Lotti a mandare la lettera con ritaglio di giornale nell'ottantadue in modo da deviare tutti gli inquirenti sulla pista sarda cioè capite voi a breve tra io vi do tempo sei mesi la vicenda del mostro di Firenze sarà talmente stravolta da capo a piedi che nessuno si ricorderà più dei fatti reali che riguardarono l'inchiesta ve lo dico io ma dove si può arrivare a pensare che Lotti abbia indirizzato le indagini su Pacciani quando le indagini su Pacciani sappiamo benissimo che per impulso anche della lettera anonima scritta da Floriano Delli verranno poste all'attenzione degli inquirenti in quella maniera lì invece no fra sei mesi un anno vedrete che uscirà fuori che tutti parleranno in maniera naturale del fatto che possa essere stato Lotti a indirizzare le indagini su Pacciani non se ne uscirà mai attraverso questi discorsi che sinceramente li trovo proprio fuorvianti della verità mai visto un'inchiesta criminale affrontata a cazzo come succede per la vicenda mostro di Firenze ognuno fa le sue ipotesi l'inchiesta del mostro di Firenze avrebbe dovuto riguardare o l'astuzia dell'otti no o una guerra planetaria o una banda di assassini che vai a sapere da che parte li avrà mai visti giuttari eh quando indagò oltre livello superiore non ci siamo non ci siamo e non ci siamo ecco le uniche osservazioni giuste che sono uscite fuori dal video di Antonio Segnini e quando ha rimarcato sulla figura del Pucci che secondo lui no andava indagato anche Pucci ma queste sono cose che ha già detto chiaramente chiaramente l'avvocato Antonino Filastò quando era in udienza in corte di assise che parlava con il presidente e parlava del Pucci e l'avvocato Filastò diceva al presidente ma guardi una persona così quantomeno doveva essere indagata no pubblico ministero dice niente il silenzio e Pucci che si guardava intorno come per dire ma di chi stanno parlando di te l'avvocato Filastò sta parlando di te avresti dovuto essere anche tu giustamente chiaramente normalmente indagato invece no questo è un punto interessante perché riguarda l'inchiesta e un commentatore ha scritto ad Antonio Segnini vorrei condividere questo suo intervento e sottoporlo all'attenzione della procura perché a me sembra uno spunto interessante ha detto questo commentatore Antonio Segnini sotto ha scritto se ritiene utile ed opportuno prego faccia pure allora io condivido perché tutto quello che potrebbe chiarire meglio l'inchiesta ufficiale non le ipotesi l'inchiesta ufficiale e il perché sia nel procedimento Vanni e sia nel procedimento Pacciani ci siano state insomma delle cose non troppo chiare allora ben venga io ci sto se la procura dovesse mai prendere in considerazione questo spunto che riguarda il Pucci bene ma anche se la procura dovesse approfondire questo passaggio del video di Antonio Segnini e riconoscere chiaramente che Pucci doveva essere formalmente indagato quantomeno che ti può dire la procura sì l'obiezione giusta però ormai Pucci è morto il procedimento è concluso non si può chiedere una revisione del processo Vanni per la posizione processuale che avrebbe dovuto eventualmente riguardare Pucci no non c'entra nulla da questa osservazione giusta che ha fatto Antonio Segnini che ha captato questo commentatore la procura potrebbe dire quel che vi ho detto è vero la posizione del Pucci andava avagliata differentemente perché una persona che dice Pucci eh dice sapevo già che avevano già ammazzata Pacciani e Vanni una persona che dopo il duplice delitto degli scopeti dove c'era stato Vanni che cosa fa il Pucci anni dopo si reca a casa dell'escistore Vanni e gli imbianca la cucina il Pucci allora se Pucci sapeva già che Pucci sapeva già che Pucci avevano già ammazzato precedentemente li ha visti ammazzare tagliare agli scopeti e poi ci vai a casa a imbiancare vuol dire che tanta paura tu Pucci di questo escistore Vanni e non ce l'avevi quindi vuol dire che sotto dal punto di vista diciamo del gruppo Pucci poteva essere considerato parimenti complice anche se non si era mai recato nei luoghi con loro eventualmente ad uccidere però sapeva ha detta sua eh l'ha detto Pucci ve l'ha letto Antonio Segnini quindi andava chiaramente indagato solo che la posizione del Pucci non potrà mai portare a una revisione del processo Vanni perché se anche le parole del Pucci sono come tutti sappiamo non vere ci sono comunque quelle del Lotti che vanno ad accusare Mario Vanni perché se ben vi ricordate Lotti durante il processo a un certo momento si alza fa dichiarazioni spontanee e dice a Federico Lombardi tutte quelle cose lì gliele ho dette io a Fernando poi nella storia sarà Fernando a raccontarle prima secondo il pubblico ministero Canessa Canessa in udienza dice il Pucci ci ha raccontato delle cose che neanche Giancarlo Lotti ci aveva mai detto per come ce le ha raccontate Pucci ok quindi inizialmente era questo poi a seguito della dichiarazione di Lotti viene preso atto che tutte quelle cose sui duplici delitti precedenti sul fatto della ragazza di Vicchiano eccetera eccetera le l'avesse dette Lotti e la corte prende atto di questo ma la posizione di Pucci non potrà mai andare a inficiare quella dell'imputato Vanni mi dispiace per chiedere una revisione del processo Vanni bisogna andare ad attaccare tutte quelle situazioni tutte quelle circostanze che hanno portato alla condanna di Mario Vanni venne ritrovato un coltello sì è stato mai sottoposto a esame del DNA il coltello no venne ritrovato uno spolverino sì venne mai sottoposto a esame quello spolverino no oggi gli avvocati che difesero Mario Vanni all'epoca potrebbero richiedere delle perizie su quei reperti perché fino a prova contraria sono i reperti che hanno portato alla condanna oltre alle dichiarazioni di Lotti e Pucci di Mario Vanni Vanni è stato considerato l'escissore non solo per le parole ma anche perché è stata rinvenuta l'arma e quello spolverino quindi gli avvocati avrebbero tutto il diritto di richiedere degli esami su quei reperti qui si può si potrebbe e questo se dovesse dare esito negativo andrebbe ad alleggerire di molto la posizione di Mario Vanni non mi si dica che sul coltello o sullo spolverino non sia possibile rinvenire tracce perché non è così anche a distanza di anni per un caso che adesso non mi ricordo quale poi magari ve lo metto a correzione venne ritrovato del dna all'interno di una carriola per portare il cemento sottoposta ad esami questa carriola ha dato dei risultati e la carriola era stata chiaramente all'esterno alle intemperie tutto quello che volete le tracce biologiche di dna sono rimaste quindi se sono rimaste diciamo su questa carriola figuratevi voi se non possano rimanere su quello che fu il coltello del vanni che è comunque ripertato sicilato e si trova dove si deve trovare mi auguro è uguale per lo spolverino quindi in questo modo si potrebbe agire sulla posizione processuale di Mario Vanni ma non osservando altre questioni si può intervenire per conto terzi cioè attraverso le parole di Lotti e Pucci dimostrando però perché fino a prova contraria ad oggi le parole di Lotti e Pucci per quanto a noi sembrino e siano inverosimili sono state accettate da una corte di Cassazione che ha ritenuto Lotti per alcune cose intrinsecamente credibile anche questo è bizzarro all'interno di una sentenza definitiva quando abbiamo due sentenze che su Lotti lo condannano però senza credergli troppo Federico Lombardi l'ha condannato a Lotti ma per Giocoli non gli ha creduto quindi è una condanna diciamo sorvoliamo su quello che Lotti ha detto a Giocoli e su quello che Lotti si è autoattribuito per Giocoli sorvoliamo su quello e prendiamo in considerazione tutto quello che ci ha detto Lotti unendole queste dichiarazioni bene o male a quelle di Pucci che per scoperti abbiamo dovuto aggiustarle un po' però bene o male tutto torna e vorrei anche provare a chiarire un punto su un argomento quando si dice un'ipotesi un'ipotesi allora per come la intendo io un'ipotesi deve essere tale se riguarda una sola persona una molti commentatori mi hanno chiesto Aldo ma tu hai in mente hai qualche sospetto su Alfio Greco no il tenente colonnello e io ho detto loro no allora la persona di stato che ho in mente io non è né Alfio Greco né Marcangelo Stampa neanche il rosto del Mugello ve li ho portati come esempi di persone che facevano parte o erano vicine diciamo all'ambiente che conta riconducibili ad ambienti dello Stato Alfio Greco era un tenente colonnello Marcangelo Stampa prestava servizio presso il comando regione militare tosco emiliano il rosto del Mugello era vicino ad ambienti giudiziari quindi ma ve li ho rammentati come suggestioni quando si per contrastare no proprio altre suggestioni oltre l'oceano dico era per portarvi l'esempio non c'è bisogno poi no di andare così lontano ecco ma io non credo che loro potessero essere coinvolti quantomeno me lo auguro ripeto il verbale a carico di Alfio Greco è molto interessante ma non sono loro il l'oggetto ecco della mia attenzione così come non posso attribuire nulla assolutamente nulla alla persona che ho in mente io sto continuando a fare ricerche anche per togliermi questo dubbio mi auguro di poterli approfondire e chiarire e va bene vediamo all'uomo dello Stato indefinito no che per quanto mi riguarda che fosse una persona interna all'ambiente è palese ecco mettiamola in questo in questo senso qui l'ipotesi allora l'ipotesi può valere per una singola persona perché se tu cominci a mettere appresso a quella singola persona poi una copertura da parte di qualcuno e poi ci dovrebbe essere qualcun altro che copre questi due o più di due e allora vedete che non è più un'ipotesi è un'ipotesi che riguarderebbe una singola persona nella nostra idea colui che va a uccidere e poi questa persona verrebbe coperta a sua volta da una terza e poi da una quarta lì non è più un'ipotesi lì allora diventa una calunnia che coinvolge almeno tre persone non è uguale l'ipotesi alla situazione prospettata è un'ipotesi che aduce ad un trio e sono rimasto basso ad un trio di persone e determinate azioni uno che uccide uno che copre quello che uccide e un altro che coprirebbe entrambi è diverso è diverso dal sostenere un'ipotesi dell'uomo dello Stato innanzitutto l'uomo dello Stato viene fuori da sé viene fuori da solo non c'è bisogno di forzature le parole di Piero Luigi Vigna sono chiare nelle interviste sono parole che ha detto lui mica l'ho detto io questa persona conosce le nostre mosse in anticipo la dottoressa della Monica ha detto quando voleva comunicare i suoi dubbi a Piero Luigi Vigna dice non escludo che questa persona pur di farsi beffe degli inquirenti non possa esitare ad inviarci un segnale in questo senso come quello che poi arriverà quello della lettera del lembo di seno l'ha detto la dottoressa della Monica mica l'ho detto io l'ha detto sempre la dottoressa della Monica attraverso documenti ufficiali inviati al procuratore capo di non sentirsi tanto a suo agio all'interno della procura l'ha detto lei non l'ho mica detto io Ruggero Perugini in più interviste ha detto ma anche in corte di assise ha detto non ho mai escluso l'eventualità che questa persona volesse interagire con noi con gli inquirenti l'hanno detto loro non l'ho detto io e a seguito di tutte queste parole poi mi vedo un imputato come Pacciani dico già non lo ritengo l'assassino seriale unico figuriamoci se io lo possa ritenere la persona che ha interagito con gli inquirenti a detta degli inquirenti ecco da dove viene fuori l'uomo dello Stato oltre dal fatto che avesse o potesse avere un controllo capillare del territorio conoscendolo il fatto che potesse intercettare alcune delle sue vittime se non gli andavano tanto a genio anche solo dal numero di targa senza fare mille appostamenti, mille pedinamenti poi qualche volta sarà anche andato dietro a qualche vittima ricordatevi sempre il 29 luglio dell'84 lui era lì, lì, attendeva vicino casa di Claudio Stepanacci li ha visti andare via e gli è andato dietro era lì quindi ecco da dove viene fuori l'uomo di Stato da tutte quelle cose che sono rimaste in sospeso dell'inchiesta delle lettere, vi ripeto i documenti dovrebbero anche cominciare a essere divulgati come diceva giustamente qualcuno sul gruppone dice è una vergogna che ancora da oggi non si sappia gli esiti degli esami perché li hanno fatti non è che non li hanno fatti però gli esiti degli esami sulle lettere non siano ancora stati resi pubblici e che cazzo scusate dopo 40 anni e più si potrebbe anche fare quindi non è una di tale niente a nessuno io non diffamo proprio nessuno l'uomo vicino all'ambiente che conta ve l'ha dimostrato mille volte di essere vicino all'ambiente che conta poi chiaramente se si va sempre a etichettare burloni mitomani e poi si ritiene uno come lotti capace di deviare il corso delle indagini capite voi che è finito tutto cioè non ha più senso discutere ma vedete voi che la mia non è non solo un'ipotesi è un qualcosa che va oltre l'ipotesi che non può essere smentita e forse potrebbe anche essere confermata in un futuro chi lo sa però ad oggi rimane una probabilità molto molto alta che si trattasse di una persona interna allo Stato e qui arriviamo al punto anche di vigna come vi ho già detto qualcuno molto ingenuamente mi fa anche tenerezza mi ha scritto questo commento prima va il suo commento e poi leggerete dietro la mia risposta vedete a parte il fatto che l'interlocutore ha sbagliato anche video perché in quel video lì io rammento vigna solo per il fatto di aver imbastito il procedimento Mario Vanni più 3 il procedimento penale che lega il procedimento Vanni al procedimento Pacciani lo ha imbastito Piero Luigi Vigna è un fatto non è una calunnia quindi ha sbagliato anche il video ma il discorso che riguarda Vigna è molto sottile e io siccome non sono nato ieri adesso glielo spiego a questo troll perché non può essere altro che un troll allora si può parlare di Piero Luigi Vigna in maniera suggestiva come fa per esempio l'avvocato Paolo Franceschetti qualcuno dice no com'è che l'avvocato Franceschetti parla parla di Piero Luigi Vigna ma non è mai stato querelato perché Franceschetti chiaramente che è un avvocato sa come parlare lui parla 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 dice tutto su Piero Luigi Vigna per non dire nulla cioè tutte quelle cose che lui racconta per esempio quando dice in diversi duplici delitti Vigna era presente o vicino ai luoghi dove i duplici delitti si sono consumati e chiaramente una persona dice beh che cazzo dove c'entra in più questo va anche a scaccionare eventualmente Piero Luigi Vigna perché non era da solo era in compagnia di altre persone e questo assassino vi fa capire che era lui che andava dove si trovava Vigna non era Vigna a dire all'assassino dove colpire eventualmente no i discorsi invece che fa Franceschetti non vorrebbero addurre cioè anche certe situazioni dove normalmente si vede la polizia che poi diciamo circonda la zona e pare che stiano facendo regolari indagini a volte Franceschetti con la suggestione ti applica anche scenari un po' diversi dove coloro che sono lì non stanno realmente indagando ma stanno coprendo eventualmente non si sa che ecco perché non è mai stato querelato Franceschetti perché che vuoi querelare una persona che ti lancia solo suggestioni su Vigna senza spiegarti assolutamente il suo ruolo come quando dice a Vicchio dove sono stati uccisi due giovani a poche centinaia di metri in linea d'aria si trovava una villa una proprietà di Pierluigi Vigna anche qui ma che cazzo c'entra se voi fate una ricerca intorno alla boschetta di Vicchio troverete altre proprietà altri edifici riconducibili a persone più o meno note dell'epoca e allora che dovremmo pensare che l'assassino ha colpito lì proprio a Vicchio per fare un rispetto non solo a Vigna ma a tutte queste persone che ragionamenti sono questi su Vigna se non per creare no? beh il famoso identikit era molto somigliante a Vigna che vuol dire che significa era somigliante anche al Faggi Faggi è stato assolto Giovanni Faggi e una cosa che qui la trovo veramente di pessimo gusto questo posso dirlo tutte le allusioni che Franceschetti fa in merito alla morte della prima moglie di Piero Luigi Vigna cioè la povera signora Carolina Ricci stimata insegnante e persona per bene Franceschetti la definisce la strana morte della prima moglie di Vigna dico ma strana di che? la povera signora Carolina Ricci ha avuto una tragica fatalità con un motorino e con una comitiva di persone che guarda caso molti hanno detto si trattava di una comitiva di guarda caso di ragazzi e ragazze persone tedesche ah no l'83 poi capirai e che significa tutte le suggestioni che ci si va a dimenticare poi il fatto che è la morte di questa povera donna avvenuta per un banale tragico incidente stradale Franceschetti vorrebbe alludere no la strana morte cioè questa è una cosa veramente vergognosa ecco dal mio punto di osservazione perché se si vuole discutere della figura di Piero Luigi Vigna secondo me si può farlo si può anche criticarlo però bisogna farlo nei termini corretti per quello che è stato non per come uno vede Vigna cioè ci sono alcuni pazzi proprio che lo ritengono lui l'assassino cioè ma ci rendiamo conto che modo è è chiaro che poi finisci sotto processo o anche vedere Vigna come frequentatore scusate di certi luoghi no ora non mi spingo oltre perché anche qui c'è una persona sotto processo e lui stesso Luciano Malatesta in non so quale documentario o in quale intervista disse proprio di aver parlato più e più volte con il dottor Paolo Canessa in passato eh in passata anche dopo la vicenda Pacciani la vicenda compagni di merende no dopo dopo e disse Luciano Malatesta il dottor Canessa è sempre stato gentilissimo mi ha sempre ascoltato con pazienza su tutte queste cose che io gli andavo a comunicare eccetera eccetera e va bene dovete tenere presente poi che Luciano Malatesta venne anche ascoltato nella commissione che riguardava bene o male no bene o male riguardava i fatti del forteto e Luciano Malatesta è stato ascoltato ad un certo momento lui riferendo determinate cose su Piero Luigi Vigna il presidente o la presidente ora non ricorderei se si trattasse di maschio o femmina comunque il presidente della commissione a un certo momento disse a Luciano Malatesta guardi io capisco tutti questi racconti discorsi e questi collegamenti che lei fa ma io vorrei chiederle a lei si rende conto di cosa sia stato Piero Luigi Vigna per Firenze per la Toscana per l'Italia se ne rende conto questo disse all'epoca il presidente a Luciano Malatesta come per voler far intendere lui nessuno nessuno è chiaramente sarà mai al di sopra della legge neanche Piero Luigi Vigna chiaro però per o prima di additare qualcosa ad un magistrato come lui lei capisce che ci vogliono montagne e montagne e montagne di documenti che possano sostenere quantomeno qualcosa in senso inverso perché altrimenti giustamente qui parliamo di un magistrato che ha ricevuto anche la croce al merito della Repubblica dallo stesso presidente della Repubblica questo intendeva dire il presidente al buon Luciano Malatesta poi lui ha fatto le successivamente le esternazioni che ha fatto in quel documentario e gli auguro per lui che tutto possa procedersi in maniera con esito favorevole per lui mi auguro che possa insomma spiegare le ragioni di quanto ha detto ritirare quanto ha detto in modo che i familiari di Vigna possano ritirare la querela ecco quindi dipende da come se ne parla di Piero Luigi Vigna è chiaro ma di qualsiasi altra persona torniamo al punto iniziale nessun funzionario di Stato è chiaramente al di sopra della legge però per voler additare qualcosa a quel funzionario di Stato bisogna trovare prima delle motivazioni e io queste motivazioni ce le ho ma non perché me le sia inventate perché me le ha date lo stesso procuratore Piero Luigi Vigna il discorso che faccio io su Piero Vigna è diverso io non vi vengo mica a dire che Vigna abbia coperto nel tempo questa persona pur avendola individuata ma perché mai avrebbe dovuto farlo lui come qualsiasi altro funzionario di Stato come mai anche se gli uomini di Borgogne e Santi no come dice Carlo avessero coperto qui qua qua eh perché si sarebbero dovuti rendere complici di questi duplici delitti a seguito di una guerra planetaria no diciamo almeno questi lasciamo no è uguale per Vigna perché Vigna avrebbe dovuto coprire che ne so sin dall'82 l'assassino come mai che interesse questa è una cosa che vi ho prospettato come ipotesi due video fa per non darvi sempre la stessa spiegazione cioè quella corretta secondo me di Stefano Galastri poi io non vi sono mai venuto a dire che Vigna abbia coperto l'assassino vi ho detto che lui con i suoi collaboratori dopo il 1985 duplice delitto degli scopeti dove poi Vigna a seguito della lettera con l'embo di seno farà quegli approfondimenti all'interno della procura non all'esterno e intorno alla dottoressa della Monica e la cerchia di persone della dottoressa Silvia della Monica amici parenti colleghi e poi arriva a imbattersi in qualcosa secondo me qualcosa che neanche lui neanche Vigna avrebbe potuto mai prevedere così come i suoi collaboratori ecco forse perché il dottor Sandro Federico è stato promosso andando poi alla squadra mobile di Napoli al suo posto è arrivato Ruggero Perugini per redimere la questione interna e poi si concentrano su Pietro Pacciani ma scusate ora Vigna e Ruggero Perugini hanno sempre detto chiaramente onestamente fino al giorno della loro morte che per loro il responsabile era Pacciani avevano visto giusto con Pacciani Ruggero Perugini anche a seguito della condanna rispettava quella sentenza ma nell'intervista rimane irremovibile disse a seguito degli accertamenti che noi come Sam avevamo svolto a carico degli amici e conoscenti di Pacciani non era emerso nulla di grave per noi tale da poter giustificare un loro arresto per portarli poi a processo con Pacciani e infatti portammo o portarono dice Perugini gli inquirenti i pubblici ministeri a processo Pacciani come assassino seriale unico quindi però il discorso che poi fa Vigna in televisione anni dopo vedete che non può reggere perché Vigna parla di Pietro Pacciani lasciamo sì segnalato su lettera di Floriano Delli al contempo sempre nello stesso giorno o nello stesso periodo nell'85 dopo Scopeti due lettere anonime una a carico di Pietro Pacciani e una a carico di Vigilanti che infatti molte persone si chiedono ma perché il maresciallo Amore andò perquisire i Vigilanti sulla base di che ecco e va bene poi il discorso che fa nel tempo Vigna e anche Perugini a carico di Pacciani non può reggere perché Vigna ha sempre detto quando mi capitò il fascicolo di questo Pietro Pacciani di questo Pietro Pacciani che aveva ucciso un uomo nel 51 lessi dagli atti che nel momento in cui la donna estrasse il seno sinistro eccetera eccetera io sobalzai sulla sedia mi venne un brivido sulla schiena eccetera eccetera questo è sempre il discorso che ha convinto Piero Luigi Vigna un magistrato come lui su Pietro Pacciani ma io torno a ripetervi torno a ripetervi porca di una puttana troia zozza abbiate pazienza Pietro Pacciani era schedato era schedato aveva fatto 13 anni di galera 14 13 quello che è all'università del crimine per aver proprio ucciso il Bonini avevano tutto di Pacciani le impronte tutto quello che volete tutto quello che volete e allora perché questo discorso del seno sinistro agli inquirenti non gli è venuto in mente per esempio nell'84 nell'84 c'è stata l'escissione del seno fra tanti sospettati ce n'hai uno apposta Pietro Pacciani che da quello che hai detto ha ucciso un uomo ha costretto la sua donna a un amplesso dopo l'omicidio proprio a fronte di questo seno sinistro a Pierontini verrà escisso il seno sinistro per la prima volta poi a Vicchio non in un posto così a caso e a Vigna nell'84 non ci ha neanche pensato a questo dettaglio che lo farà sobbalzare anni dopo forse avremmo potuto evitare se fosse stato Pacciani avremmo potuto evitare il duplice delitto degli scopetti magari all'epoca non gli è venuto in mente a nessuno di andare a cercare questo pregiudicato schedato con impronte del seno sinistro della Bugli che aveva massacrato quell'uomo nel 51 hanno dovuto attendere che venissero uccise anche il povero Jean-Michel Kravishvili la povera Annadine Moriot anche lei è scista del seno sinistro per far sì poi che il pubblico ministero a processo potesse dire che la violenza con cui il Pacciani si era accanito sul Bonini era parimenti della violenza che riguardava il povero ragazzo francese la stessa furia nell'84 non se ne è accorto nessuno di Pacciani nell'85 se non c'era la lettera di Delli neanche magari ci andava e poi lo lasciano quieto e poi lo lasciano quieto a Pacciani ci tornano nell'89 e qui arriviamo ai cazzi al punto ho visto che molte persone dicono io voglio sapere io non voglio sapere e allora vi dico io quello che voglio sapere su chi cazzo hanno indagato dall'85 all'89 prima di ritornare su Pacciani che era in galera su chi hanno indagato io voglio sapere questo ecco perché vi dico che l'indagine sul reale autore unico è stata insabbiata perché non sta né in cielo né in terra l'argomentazione portata da Piero Luigi Vigna e non da me da Piero Luigi Vigna su Pietro Pacciani Schizzenbrunen porta sapone tutti oggetti ripeto lo Schizzenbrunen sequestrato dopo 5 5 perquisizioni basta non c'erano neanche le impronte dei ragazzi tedeschi quindi se io venissi portato a processo per aver detto non che Vigna fosse l'assassino non che Vigna abbia coperto nel tempo per aver detto che non mi torna il comportamento di Piero Luigi Vigna bisognerebbe approfondire tutti questi aspetti qui questi la corte dovrebbe chiarire questi non tanto quello che io ho detto perché vi ripeto per ipotesi se io vengo a dirvi Vigna è un assassino è chiaro che i parenti di Vigna mi prendano e mi querelano e di fronte alla corte non potrei dare nessuna spiegazione la corte mi direbbe ma perché lei ha detto questo perché perché lo penso e la corte potrebbe dirmi sì lo pensa ma io la condanno per diffamazione per calunnia è quello che è perché anche se lei lo pensa non può dirlo in questa ipotesi ma se io chiedo conto del perché di queste cose che non mi tornano riguardanti un magistrato come Vigna allora la corte deve dovrebbe tenere in considerazione di più quello che io ho detto perché lei rammenta del fatto che Vigna possa o potrebbe aver insabbiato l'inchiesta quando venne poi portato al processo Pacciani e dico guardi se andiamo ad approfondire oltre questi aspetti che l'ho già detto e che vi ho anticipato ora a voi come si fa a non accorgersi di una persona già chiaramente conosciuta alle forze dell'ordine che risiedeva in Val di Pesa dal 73 eccetera eccetera già questo come mai Vigna un magistrato così accorto che firmava i mandati di cattura ma vi rendete conto voi che cosa voglio dire firmare un mandato di cattura lo capite o no in base agli atti che lui rediceva Vigna con tanto di prove firmava i mandati di cattura per firmare un mandato di cattura vuol dire che deve avere elementi cazzo e anche consistenti e quando andavano a prendere i criminali sui mandati di cattura di Piero Luigi Vigna non è che gli avvocati andavano a dire no no guardi è sbagliato no no gli agenti prendevano questi criminali e se li portavano in carcere e Vigna poi andava a interrogarli capite? come ha fatto Vigna a portare a processo Pacciani lui ne era convinto va bene con quel capo di imputazione assassino seriale unico dal 68 all'85 senza un'arma né l'una né l'altra stai accusando tu di essere Pacciani una persona un assassino che uccide e ha ucciso a colpi di arma da fuoco a colpi di arma bianca e tu Vigna tu procura non gli contesti neanche un coltellino rimembri sulle sue armi passate un fucile ma chi se ne frega come ha fatto Vigna a fare degli errori così grossolani un magistrato come lui è una diffamazione questa? mi viene legittimo pensare che sia chiaramente successo qualcosa che non va dall'85 all'89 siccome io non so cosa nel dettaglio però un pochino me lo sono immaginato mi sono permesso ecco di condividere con voi questi dubbi questi pensieri come mai? perché un comportamento simile perché poi Vigna ha dovuto trovare il rinforzo perché sapeva che non avrebbe retto il processo Pacciane in tutti i gradi di giudizio lo sapeva Vigna e perché ha dovuto correggere poi con i presunti complici gli amici già attenzionati sin dagli anni 90 e ha dovuto ritessere a doppia mano a doppio nodo questi due procedimenti penali come mai? di cui poi alla fine non spiegano nulla alla fine è stato condannato Vanni per le scissioni del seno sinistro quelli che avevano fatto sobalzare Vigna sulla sedia che però riguardavano Pacciane quando è che la psicopatologia è passata da Pacciane a Vanni scusate cioè noi pensiamo scherziamo cioè ma capite o no la contraddizione è grossa cioè queste sono cose gravi attribuire a un altro imputato una psicopatologia che inizialmente era stata attribuita sulla base del nulla all'altro a Pacciane perché Vanni avrebbe dovuto scendere il seno sinistro allora portatemi in tribunale che almeno di fronte alla corte andremo a chiarire anche questi aspetti la corte potrebbe interessarsi magari nel sapere solo attraverso documentazione che la famosa cartuccia benché venisse già detto nel 1996 che ci fossero seri dubbi sulla genuinità di quella cartuccia già nel 1996 oggi ci sono ancora più dubbi che quella cartuccia potesse essere genuina non voglio dire falsa farlocca ma certamente non è genuina e la corte potrebbe essere interessata anche a questo perché potrebbe anche rappresentare quella cartuccia una prova che non è una prova ma anzi si va a inquinare un procedimento penale dando delle suggestioni rispetto ad altro pensate voi presentare al processo Pacciani una cartuccia ritrovata nell'orto del Pacciani e oggi sappiamo come un po' meglio come senza presentare neanche la pistola di che cosa avrebbe dovuto sapere al tempo la prova regina la prova regina di che che non c'è l'arma ecco queste sono diffamazioni a carico di vigna sono calunnie no mi dispiace questi sono chiarimenti che un cittadino chiede non solo sulla posizione di Piero Luigi vigna ma solo l'inchiesta reale che ha riguardato i duplici delitti con le posizioni reali degli imputati dei testimoni dei reo confessi eccetera 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 non le cazzate e vi voglio dire anche di più per continuare a farvi riflettere no allora prendiamo per esempio questo nell'89 comincia l'indagine su Pacciani va bene sì ok Pacciani in carcere eccetera eccetera nell'ottobre del 91 gli verrà notificato sempre in carcere di essere indagato lui come presunto assassino seriale dei duplici delitti della provincia di Firenze la 68 all'85 Pacciani esce dal carcere il 6 dicembre del 91 con questo foglio in mano di avviso di garanzia e farà un capodanno un po' amaro mettiamola così comunque arriva l'anno nuovo il 1992 sapete tutti no poi ci sarà la maxi perquisizione dove sarà ritrovata la cartuccia Pacciani poi viene arrestato nel 93 un'altra volta e il processo a suo carico comincerà nel 1994 no ecco vi immaginate voi che cosa sarebbe potuto succedere se il giorno dell'udienza della prima udienza in cui comincia il processo a carico di Pietro Pacciani fosse stata ritrovata un'altra coppia uccisa immaginate voi che cosa sarebbe potuto succedere avete ben presente l'iter che vi ho detto no 89 indagine su Pacciani 91 continuano a indagare tanto in galera gli consegnano l'avviso esce dal carcere il 92 maxi perquisizione proiettile i sospetti diventano ancora più marcati nel 93 sarà arrestato nel 94 comincia il processo a suo carico il giorno dell'udienza vengono assassinate altre due coppie cazzo no e allora ecco la domanda come faceva vigna ad essere sicuro che l'assassino non avrebbe più colpito chi gliel'aveva detto beh come facevano a sapere che durante l'indagine Pacciani sviluppata dall 89 in poi ora sono stato drastico ho detto proprio il giorno dell'udienza uccide no ma possiamo tornare indietro comincia l'indagine un'altra volta nell 89 su Pacciani il giorno della maxi perquisizione ad aprile da qualche parte vengono ritrovati altri due cadaveri no caduto l'indagine Pacciani a quel punto non l'avrebbero portato neanche a processo e torna qui la mia domanda come facevano ad essere sicuri dal momento che non l'avevano mai trovato che non potesse più colpire ditemelo voi è scappato l'hanno letto nella sfera di cristallo che ne sapeva vigna come faceva vigna come avrebbe potuto vigna sapere con certezza di imputare Pietro Pacciani come assassino seriale unico ed essere sicuro che nessuno tornasse più a colpire come lo sapeva domanda ditemelo voi quindi qui c'è qualcosa che non va chiaramente ma non va a riguardare troppe questioni va a guardare questioni interne alla procura quindi io la domanda ve l'ho fatta sono diffamazioni queste sono calunnie a carico di vigna ma non penso proprio sono domande che dovrebbero essere chiarite secondo me oggi a 40-50 anni di distanza intanto e c'è un'altra cosa che vi voglio dire oltretutto adesso voglio sottoporre alla vostra attenzione due aspetti che vi dovrebbero far capire quanto meno come la vicenda del mostro di Firenze seppur abbia risvolti completamente diversi a livello giuridico si leghi in maniera intrinseca ad altre due vicende che sono successe dopo anni dopo tantissimi anni dopo e oltretutto con il nuovo sistema di procedura penale dove ogni sentenza di condanna dovrebbe essere messa al di là di ogni ragionevole dubbio guardate nella sentenza di Cassazione che condanna Olinda e Rosa c'è scritto c'è scritto che permangono molte aporie nella vicenda della straccia di erba delle aporie sono delle domande senza risposta e allora come fa una corte di Cassazione che dovrebbe condannare al di là di ogni ragionevole dubbio a scrivere in sentenza che per quel procedimento penale lì sussistano ancora delle aporie è un controsenso allora non stai condannando al di là di ogni ragionevole dubbio se ci sono delle aporie delle domande senza risposta va bene ecco quindi guardate per la strage di erba che cosa successe qualche anno fa ci fu un'ordinanza del 3 luglio 2017 della corte di assise di Como che aveva sospeso la distruzione del materiale cioè dei reperti della strage 2017 voglio dire Olindo e Rosa erano stati condannati in via definitiva anni prima quindi i reperti erano sempre stati lì gli avvocati ne fanno richiesta e infatti si doveva discutere di questa richiesta in sede di incidente probatorio e qui dice l'ordinanza aperte virgolette non può essere distrutto il materiale fino all'esito della decisione definitiva sull'incidente probatorio chiuse virgolette una volta discusso la corte avrebbe detto sì l'incidente probatorio si fa e allora servono i reperti oppure no l'incidente probatorio non si fa e i reperti possono anche eventualmente essere distrutti però dopo ok invece qualcuno ha preso quei reperti quel qualcuno è il cancelliere del tribunale di Como Angelo Fusaro che su disposizione del suo superiore del quale adesso mi sfugge il nome quindi non voglio dire un nome per un altro magari per la metà correzione ha preso quei reperti che erano rimasti sempre lì e guarda caso contravvenendo all'ordinanza è andato all'inceneritore e li ha buttati nel fuoco saranno stranezze entrambi si sono giustificati la loro posizione è stata archiviata come si dice sempre io gli ho detto una cosa lui ne ha capitato un'altra tutto a livello verbale e insomma non è stato riconosciuto il dolo va bene anche qui è una grave dimenticanza però cazzo dice non sapevo dell'ordinanza e ho capito non regge però prendiamola per buona ok e quindi no capite per Bossetti è stata la stessa identica cosa dopo anni che la difesa del condannato ormai in via definitiva Bossetti richiedeva di fare loro un esame del DNA perché la procura ha detto l'abbiamo ripetuto quattro volte quattro quell'esame e ha dato sempre lo stesso esito su quello di Bossetti del suo DNA e gli avvocati hanno detto va bene se un esame ce lo fate fare anche a noi che male c'è visto che ne abbiamo il diritto nel senso gli avvocati non chiedevano nulla più di quello che è un loro diritto proprio previsto dall'ordinamento giuridico dopo anni chiaramente avendone diritto gli è stato accordato bene il pubblico ministero ha detto chiaramente visto che gli avvocati sono stati autorizzati a fare queste comparazioni del DNA di Bossetti di queste 54 provette che faccio io come pubblico ministero ne ordino il dissequestro dalla cella frigorifera dove si trovano all'interno dell'ospedale San Raffaele dove erano sempre rimaste e le faccio portare qui dai carabinieri presto il tribunale nell'ufficio corpi di reato gli avvocati chiaramente hanno protestato per questa decisione dice scusi eh sono sempre stati lì a meno 80 gradi e se ci sono stati c'è un perché lei con la sua ordinanza pensando di farci un favore facendoli trasferire all'ufficio corpi di reato a temperatura ambiente me li potrebbe rendere inutilizzabili per le mie comparazioni di avvocato capite saranno tutti i casi saranno sempre in buona fede no il pubblico ministero Letizia Ruggeri si è giustificata è finita sotto procedimento ehm di indagine per questo eh per depistaggio e per frore processuale intendiamoci a seguito poi la sua posizione è stata archiviata è stato accertato da chi ha giudicato la posizione del pubblico ministero che non ci sia stato del dolo ma solo una grande sciatteria mettiamola così una grande sciatteria e il pubblico ministero ha ricevuto comunque una sanzione dal consiglio superiore della magistratura è stata censurata però questo è in un momento e sempre nei momenti delicati in cui si può accertare qualcosa intervengono sempre queste problematiche come mai io vorrei anche farvi leggere il virgolettato proprio in merito a quelle fialette di dna e ora ora questo virgolettato ecco deriva da delle intercettazioni sono parole dette dal pubblico ministero Letizia Ruggeri che fanno comunque riflettere su come molti mi auguro non tutti molti funzionari prendano il loro ruolo istituzionale che è comunque un ruolo importantissimo perché si va a decidere della vita delle persone non capisco come si possa ecco proferire simili pensieri e simili parole andando contro poi quello che è dovrebbe essere il mandato dello stesso pubblico ministero che agisce in nome per conto della costituzione che prevede il pieno diritto di difesa dell'imputato e quindi sono parole che fanno male ecco al di là poi della rilevanza penale che non c'è e quindi lo stesso identico discorso lo potremmo applicare anche alla vicenda del mostro di Firenze cioè i casi di erba i casi bossetti sono finiti sono coperti da una sentenza definitiva passata ingiudicata è andato tutto bene chi ha condotto le indagini le ha condotte in maniera scrupolosa al di sopra di ogni sospetto di legge sì e allora perché poi accadono queste cose qui scusate che al momento di dover analizzare dei reperti come è nel pieno diritto degli avvocati succedano poi queste cose qui come mai se è tutto regolare è uguale lo stesso discorso lo giratelo alla vicenda del mostro di Firenze è stato perseguito Pacciane c'è una condanna definitiva a carico di Vanni e Lotti la storia bene o male è questa che non spiega nulla è andato tutto bene sono andati benissimo quei due procedimenti penali lì Pacciani e Vanni la verità giuridica ha spiegato parzialmente qualcosa sì e allora perché ci sono state in passato tutte queste resistenze sulla documentazione sui reperti sulle deleghe ora non voglio parlare della nuova dirigenza ecco di oggi della procura io vi parlo del passato è un fatto che il procuratore turco si sia strenuamente opposto al tempo all'accertamento di determinati atti è un fatto coinvolgendo anche il ministero di grazia e giustizia con la ministra Cartavia che ha dato le risposte che ha dato che tutti potete confutare il ministero di grazia e giustizia che interpreta il codice di procedura penale come vuole lei e l'avvocato Mazzeo che diceva giustamente in trasmissione mi auguro che questa nota l'abbia scritta non il ministro in persona ma qualcuno che le fa le veci e sia stato un po' distratto altrimenti dice non si possono leggere cose simili sulla carta intestata dello Stato e del ministero di grazia e giustizia allora perché ci sono state tutte queste resistenze in passato per Pacciani no evidentemente no perché chiaramente dall'approfondimento di quegli atti dall'85 all'89 ma anche di tutti gli altri ne uscirebbe una storia completamente diversa che andrebbe a riguardare la vicenda del mostro di Firenze ecco perché ci furono tutte quelle resistenze a suo tempo da parte di Luca Turco che conosce perfettamente la legge il codice di procedura penale tutto quello che volete è chiaro che lo conoscesse allora come ora se si è opposto a determinate manovre dopo che aveva però inizialmente dato il suo assenso lo sa lui perché è inverosimile che degli avvocati debbano stare anni a rimpallarsi tra la procura dice no e questi atti sono in corte di assisi poi va in corte di assisi a fare la richiesta dicono no ma non ce li abbiamo tutti perché alcuni sono in procura e allora torna in procura a fare la richiesta e passano mesi e passano anni e passano anni e passa il tempo e ti portano i reperti che non sono quelli giusti e ora li starebbero riclassificando e anche lì ci vuole del tempo e vai a chiedere delle foto che sono comunque presenti in verbali quindi vuol dire che qualcuno le ha viste il pubblico ministero dell'epoca il dottor Paolo Canessa di sicuro dopo anni ti vengono a dire che non le trovano più che le hanno smarrite quando oggi molti documenti avrebbero già dovuto da mo in iniziare un processo di digitalizzazione eh invece no come mai tutte queste e vi sto parlando nel migliore dei casi della sbarataggine di dire ma come disse l'avvocato via degli atriani una volta dice dentro un plico ci doveva essere un tipo di reperto andammo cioè andarono loro ad aprire in corte e c'era un reperto che riguardava un altro caso addirittura eh per dire no e allora sono tutti nei migliori dei casi può essere sbarataggine sbarataggine ma insomma il mostro di Firenze se è stato tutto lineare pacifico io vi ricordo che tutti rammentano sempre l'articolo 116 del codice di procedura penale che dice chiunque vi abbia interesse può richiedere atti documenti eccetera senza divulgarli però fotocopi a sue spese ma c'è anche l'articolo 114 114 del codice di procedura penale che dice che gli atti del fascicolo del pubblico ministero che non sono mai entrati a processo quelli possono essere visionati dopo la sentenza di appello stiamo parlando del procedimento Pacciani la sentenza di appello è del 96 siamo quasi nel 2026 potremmo gentilmente conoscere tutti quegli atti del fascicolo del pubblico ministero che non sono mai entrati a processo Pacciani grazie possiamo cioè chi di competenza no? invece no come mai? vi lascio con questo dubbio con questa riflessione e vi ringrazio come sempre a tutti per l'attenzione e per la pazienza non cioè non poi uno dice dai consigli fate quello che volete va bene sappiate distinguere però un'ipotesi da una rifamazione da una calunnia da quella che è la realtà dei fatti e dell'inchiesta a presto da una calunnia da una calunnia di un'ipotesi